Si moltiplicano le iniziative per sbloccare il tratto fabrianese della quadrilatero, salvare l'occupazione e completare l'opera agli obiettivi da raggiungere, cercando così di ottenere gli effetti, di attenuare gli effetti di una crisi che colpisce ancora duramente il settore delle costruzioni. Pierpaolo Rivalta. Cantieri fermi da mesi sulla Statale 76, con i 134 posti di lavoro tutelati grazie al rinnovo a dicembre della Cassa Integrazione straordinaria. Per ripartire serve il salvataggio di Astaldi. L'impresa ha chiesto il concordato preventivo, ma a breve dovrà presentare un piano di ristrutturazione, forse con l'intervento di Salini in pregilo. Chiaro che questo è uno spartiacque. La data è il 14 febbraio, da lì capiremo anche la tempistica di ripartenza dei lavori della quadrilatero. Regione Marche e Umbria hanno tenuto pochi giorni fa un incontro istituzionale, mentre il Consiglio Comunale Aperto di Fabriano ha evidenziato il rischio di spaccature sul fronte dei subappaltatori. Può servire una regia comune a livello locale? Interessi in gioco sono molteplici, però tutti quanti dobbiamo camminare verso un'unica direzione, che è quella della ripartenza dell'opera, per dare certezza occupazionale sia a chi lavora in Astaldi, nelle imprese di Ile e di tutto quell'indotto che in questi anni ha lavorato nell'opera. Infatti ci sono anche subappalti, vecchi crediti da riscuotere, servono garanzia anche in questo senso? Sì, crediamo che la garanzia più grande sia quella che queste aziende ritornino a lavorare in questa opera al momento della ripartenza. C'è il problema dei crediti maturati e non riscossi nel periodo precedente al concordato, credo che sarà tema di discussione anche con i commissari di Astaldi. 10.000 addetti persi e 3.000 imprese chiuse nelle marche durante la crisi, in un settore che ora vede traballare i principali gruppi nazionali. In regione c'è anche il grande cantiere della ricostruzione post-sisma, realizzato l'8% delle opere. Benvengano interventi per velocizzare, dice la CISL, ma nel rispetto di sicurezza e legalità.